Amici e amici della Rechico, eccoci qua, prima gara di ritorno, si va ad Alba in casa della San Bernardo Alba e questo pre-partito lo facciamo con uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione, Keller, Cedric, Lille, ma per tutti ovviamente Lillo Ciao Lillo, benvenuto Ciao, grazie, grazie a tutti Allora, prima di parlare di Alba, parliamo un po' di queste prime sette giornate Sei vittori in sette partite, siete stati davvero bravi Eh sì, siamo partiti bene, abbiamo rispettato più o meno tutte le consiglie dell'allenatore, abbiamo lavorato duro Sei testimone, abbiamo fatto quasi due mesi di preparazione atletica all'inizio della stagione Sì, siamo molto preparati, siamo molto preparati e ci allineiamo duro ogni giorno Sì, speriamo di andare avanti così per un bel po' Ecco, vedendovi appunto tutti i giorni e vedendo soprattutto le partite, avete sempre fatto, quasi sempre rimontato delle grandi rimonte E non è ovviamente una casualità, qual è secondo te la vostra forza? Da fuori mi vorrebbe dire davvero il gruppo, perché restate sempre uniti Esattamente, esattamente, siamo un gruppo molto compatto, siamo sempre insieme, parliamo bene, ci capiamo bene tra di noi C'è questa armonia tra di noi Per me, io mi trovo benissimo qua con loro, mi trovo benissimo con i miei compai di squadra, sono diventati la mia famiglia praticamente Sì, questa cosa si ritrova pure in campo Ecco, pensando alla gara d'andata, avete bella vittoria 85-59, partita però più sofferta di quello che dice il risultato Perché fino all'ultimo c'è stata una bella battaglia, io mi ricordo la tua tripla Non è sempre, diciamo, le prove No, 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 me la sono sentita lì e l'ho presa Eh sì, noi, non so, ma noi giochiamo molto di più, molto più bene nel terzo e nel quarto quarto È lì che ci svegliamo spesso Credo che dobbiamo iniziare da inizio a mettere il ritmo e a difendere duro e essere concentrati, come dice l'allenatore Ecco, domenica che partita ti aspetta ad Alba? Ricordiamo che su quel campo ha perso Leggio Per cui, bel segnale di quanto sono venuto Sicuramente sarà una partita diversa, questo è sicuro Sarà una partita diversa, è fuori caldo, poi hanno altri due, se non sbaglio, due nuovi giocatori Sarà una partita diversa e noi dobbiamo solo andare lì concentrati e giocare il nostro gioco Atleticità, fisicità, eh sì, dobbiamo solo essere noi E non iniziare, come ha detto Coach Serra, a essere voi dall'ultimo quarto, come ha doleggio Esattamente, dobbiamo partire duri sin dall'inizio Ecco, ti chiedo un commento sulla tua stagione Sei tornato in Serie B quest'anno? E subito ho fatto valere Il coach Il coach Il coach ha parlato tanto con me E sta lavorando tanto con me E mi mette in fiducia Ogni volta, prima di entrare in campo, mi dice Dai tutto, vai, dai tutto Difendi Salta Corri Cerco di fare ciò che posso fare ora e non sforzare Praticamente ciò che posso fare per aiutare la squadra Credo che fino adesso sta andando abbastanza bene Assolutamente Ti auguriamo ovviamente a te e a tutta la squadra Un grosso in bocca al lupo per questo girone di ritorno Ricordo ore 18 in casa di Alba Partita trasmessa su LNP Pass E dopo la partita venite sulla nostra pagina Facebook Per i contenuti post partita Lillo, grazie della chiacchierata In bocca al lupo per la domenica Viva il lupo, grazie a tutti, ciao